Dottoressa Racca, qual è il ruolo delle farmacie nella prescrizione dei farmaci biosimilari? Il ruolo delle farmacie è un ruolo importante per questi farmaci. Guardate quanto ha fatto la scienza, quanto malattie incurabili sono curabili e quanto la nostra vita si è allungata anche grazie ai farmaci. Allora il nostro ruolo è fondamentale, noi stiamo con la gente, noi siamo vicini ai malati, siamo vicini alle persone che tutti i giorni entrano nelle nostre farmacie. Bene, allora questi farmaci che sono di consolidato uso, che sono messi in commercio, che sono quindi registrati, che hanno una registrazione della parte di AIFA, devono entrare nelle farmacie, cioè devono stare nella penna del medico e di medicina generale e devono essere dispensati per facilitare il cittadino a trovarli sotto casa, vicino a casa. Naturalmente è importante la farmacovigilanza, è importante la tracciatura di questi farmaci, quello che la farmacia fa da sempre. Ecco, io penso che in un momento straordinario di nuovi farmaci, di nuove sostanze che escono appunto sul mercato, la farmacia abbia proprio ruolo, quello che ha sempre avuto, quello di far risparmiare il sistema sanitario nazionale col proprio lavoro, col proprio impegno. E quindi questi nuovi farmaci che sono l'innovazione tecnologica pensano che debbano essere quindi prescritti dal medico, di medicina generale e naturalmente dispensati in farmacia. Grazie.